Partiti! Allo steccato è Geometra Carboni e all'esterno Ciclone da Clodia, Birch Noir, Pierrot e Spred. Birch Noir e Spred conducono davanti a Ciclone da Clodia, Pierrot e Geometra Carboni. All'interno è Birch Noir, all'esterno Spred, seguono Ciclone da Clodia, Pierrot e Geometra Carboni. È in vantaggio Birch Noir davanti a Spred, Ciclone da Clodia, Pierrot è sempre in vantaggio lungo la corda, Birch Noir davanti a Spred, Ciclone da Clodia e Pierrot, all'unga Birch Noir davanti a Spred e Ciclone da Clodia. È facile Birch Noir davanti a Spred, Ciclone da Clodia e Pierrot. Insomma, doveva essere un match, alla fine in fondo lo è stato, fino a 100 metri dal palo, quando Birch Noir, Pasquale e Borrelli in sé, la 2,43, la sua quota ha cambiato letteralmente passo e con il suo numero uno ha legittimato al meglio la prestazione in corda. E questa è una vittoria netta, netta.